Il 21 dicembre noi del Movimento Liberazione Italia siamo andati al Quirinale ad arrestare Mattarella. Diversi italiani non credettero alla nostra azione, pensavano che fosse così una burla. Noi invece stavamo applicando il diritto, stavamo facendo giustizia perché Mattarella non è il capo dello Stato, è un usurpatore politico. Bene, oggi abbiamo avuto la prova, tutti gli italiani hanno avuto la prova che Mattarella sta forzando l'ordinamento dello Stato, tant'è vero che addirittura alcuni partiti politici stanno chiedendo l'impeccimento nei suoi confronti. Noi siamo veramente allibiti che si continui a calpestare il diritto e la legalità, che questi politici facciano i loro comodi. Altrove, cari italiani, hanno preso i parlamentari, l'hanno buttando nei cassonetti dell'immondizia. Noi invece sopportiamo che questi facciano gli usurpatori e calpestino la Carta Costituzionale. Vi invito, tutti quanti, venite a Roma il 29 maggio alle ore 10 a Piazza Montecitore. Italiani che ancora tenete al vostro paese, italiani che volete salvare la patria, italiani che volete che venga rispettato ed è diritto alla legalità nel nostro paese. Muovetevi, venite con noi, con il tricolore in mano. Facciamo in modo che il Capo dello Stato sappia che l'Italia si ribella a certe situazioni veramente vergognose. Attenzione, già il Procuratore della Repubblica Gratteri ha invitato il popolo italiano a scendere in piazza a ribellarsi. Bene, il 29 maggio alle ore 10 a Piazza Montecitorio è il momento di far capire non solo a questi quattro politici di quattro soldi, ma a tutto il mondo che l'Italia è un grande paese.